Ciao amici, oggi parliamo di unghie sane, belle e forti. Le mani, soprattutto per noi donne, sono un po' come un biglietto da visita. Le unghie sono una delle parti più difficili da curare e mantenere perfette. Richiedono attenzioni costanti e continue, quindi meglio se naturali. Ecco come avere sempre unghie forti e curate con i rimedi naturali. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora i migliori 7 rimedi naturali per trattare le unghie a casa. 1. Olio e limone. In una ciotola mettete due cucchiai di olio di oliva e uno di succo di limone. Una volta mescolati immergete le unghie per almeno 10 minuti. Ripetete questo trattamento una volta ogni due giorni per avere ottimi risultati. 2. Equiseto. L'impacco di polvere di equiseto, che si trova in erboristeria, nutre e rinforza le unghie. Unite un grammo di polvere e un cucchiaino di miele. Applicate per 10 minuti e sciacquate bene. 3. Avocado. Schiacciate la polpa, aggiungete un tuorlo d'uovo e succo di limone. Spalmate sulle unghie, lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con acqua tiepida. 4. Aglio. È un antibiotico naturale, alleato delle unghie. Le nutre e le protegge. Basta prendere uno spicchio di aglio e strofinarlo sulle unghie una volta al giorno. Ma così ho una bruschetta al posto delle mani, vero? Per evitare l'odore potete tritarlo e mescolarlo a qualche goccia di limone. Mettetelo sulle unghie e toglietelo dopo qualche minuto con acqua tiepida. Nessun odore. 5. Olio di cocco. Un tocco esotico non solo per la bellezza delle unghie, ma anche per la salute delle cuticole. Massaggiate le unghie alla sera con due gocce di olio di cocco per renderle più forti e più lucide. 6. Olio di oliva. La vitamina E nutre le unghie, ma il segreto per farsi un trattamento da spa è scaldare leggermente l'olio e applicarlo caldo, poi massaggiare per 5 minuti. 7. Succo di limone. Il suo noto effetto schiarente è utile anche per le unghie gialle. Inoltre la vitamina C le nutre e le rinforza. Passate sulle unghie una fetta di limone e subito dopo una crema idratante. Visto quanti rimedi naturali per le unghie, semplici, economici, che abbiamo in casa? Eh sì, io ho già le mani più belle. Trovate tante altre ricette naturali per la bellezza e la salute naturale sul mio canale. E per vederle tutte basta iscriversi con un clic e attivare la campanella delle notifiche. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!